Era attesa da tempo, troppo del resto ne era passato dalla donazione del primo strumento da parte del Calcet di Arezzo. Adesso l'ospedale San Donato avrà la prima PET digitale della Toscana. Dall'unedì 12 ottobre partiranno i lavori per l'installazione della nuova strumentazione digitale che dureranno circa due mesi presso il reparto di medicina nucleare. Il nuovo macchinario Vereos, il suo nome, sarà la prima PET digitale della Toscana e una delle prime in Italia. I vantaggi sono numerosi, maggiore rapidità nell'eseguire l'esame, circa 10-14 minuti contro gli attuali 35, minore attività di sostanza radioattiva da somministrare, esami più accurati con la possibilità di individuare la malattia nelle fasi precoci e risposte più accurate per i clinici con maggiori dettagli e informazioni. Tutto ciò impatterà positivamente anche sulla riduzione delle liste di attesa in un campo della medicina estremamente delicato come quello oncologico. Giovedì 8 ottobre verrà effettuata l'ultima seduta con il vecchio macchinario per dar modo alla ditta di sfruttare il fine settimana per gli interventi di rifinitura e calibratura della nuova sistemazione. Durante i mesi di chiusura i pazienti potranno effettuare gli esami PET nelle sedi di medicina nucleare più vicine che si sono resi e disponibili in particolar modo a Siena.